ahahahah nooo 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 maria io esco maria ma fa' cura maria ciao a tutti crociotti e benvenuti in questo nuovissimo video di slidder io che mancava da tantissi ma questo è favij no magari no non è lui ma nel caso l'ho appena ucciso dicevamo mancava da un po' ma non lo so mi è venuta voglia di giocarci quindi andiamo a vedere che cosa è cambiato nello status quo dei server intanto vediamo che il livello massimo nel senso di punti è un po' più bassino nel senso di 4000 insomma shala cioè due settimane fa è notato in un server non mi pare neanche che stessi registrando e c'era uno tipo a 100.000 tipo what the fuck bro tra l'altro ho trovato questa mod particolare che aggiunge anche una roba fighissima che riguarda ah morite tutti che ti permette anche di modificare proprio le cose del tuo personaggino guarda cambio i colori le cose è carino è carino e guarda qui quanta gente che muore ci ho provato tra l'altro sono sicuro che abbiamo messo qualche bella skin carina nuova dico che figata c'è questo con la roba super lunga c'è sia nero che bianco prendiamolo bianco ci chiameremo surry vai così doppio easy oddio guarda che figata c'ho la frustona che va avanti e indietro ciao zio non ci ho provato uuuuh punti levati 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 dammi tutti i punti punti over punti ciao amico tutto bene spero di sì uuuuh evidentemente non tutto andava bene visto che è morto tantissimo e che questi stanno cercando di rubarmi i punti volevi questo è un bot tantissimo guarda c'è il nome di un sito web porca troia uuuuh bravi che morite bravi che morite grandi così più punti per zio surry più punti per zio surry mamma miau troppo forti troppo forti gira su te stesso e riprendi tutti questi punti qua che stavano per andare sprecati ok stiamo attenti però a sta gente eh sono a 4000 punti e per entrare in classifica ne servono 10.000 quindi siamo più o meno a metà del percorso a 40% del percorso cazzo pensavo di chiuderlo ok l'ho chiuso volevi te volevi oh merda c'è uno molto più grande di me che potrebbe chiudermi in due secondi c'è lol è tipo quarto in classifica ragazzi guarda come te lo dico non puoi fare queste cose perchè prima o poi muori esatto boom ora se io riuscissi ad ammazzare sti due o anche solo uno di questi due voglio io quei punti voglio io quei punti è morto è morto scarso il quarto e quinto in classifica non so che numero fosse oh è morto un altro è morto un altro levatevi dal cazzo puttane via da qui via da qui ok ok sono a 8000 punti ragazzi sono a 8000 punti sto per entrare in classifica stiamo abbastanza calmini però siamo abbastanza calmini oddio 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 stavo per fare una curva suicida troppo nella vita qua dentro non mi ci posso infilare purtroppo chi è sto qua? meglio questo è il terzo in classifica porca torre raga sto proprio nel mezzo del mezzo delle cose non ci credo non ci credo era 8000 stavo per entrare in classifica non ci voglio credere pezzo di merda che non sei altro guardaci 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 ah guarda qui c'è un po' di gente mi dicono dalla regia gente che potrebbe morire tra un secondo all'altro volevi? ahahah grande surri oh porca puttana ma che cazzo ma col tempo di arrivare non iniziamo bene ragazzi non iniziamo bene siamo appena all'inizio del video porca puttana mi stanno facendo tutto il culo vabbè che ho fatto anche io un fail perchè potevo arrivare già in classifica però cagno ci accendiamo di nuovo al centro attenzione surreal power passa in prima posizione non è vero mai nella vita ma potrebbe diventarlo a breve oddio l'ho ucciso senza manco volerlo attenzione a sti frontali attenti a sti bambini che cercano di rubarti i punti ah 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 muore gente su gente oh mio dio dove cazzo mi sono infilato dove cazzo mi sono infilato guarda come ti rubo i punti oh 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 beh qualcuno dovrà anche morire una certa però sono a 3000 punti e posso fare una cosa di questo tipo non ne vado molto fiero ma ehi l'ho fatto vai 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 ruba altri punti ruba altri punti nooo cosa guarda ci guarda ci guarda ci guarda ci ti prendo a calci in culo frate con le mie guarda ci non ce l'ho neanche guarda ci sono un piccolo verbiciatolo al centro della mappa che sta cercando di fare successo non è che vi voglio male è solo che vi odio tutti tantissimo give me the points give me the points e ma adesso un coglione pure io sono però sono un coglione pure io sono oh tanti puntini qui vero tanti bei puntini grande sorri ruba ruba i punti fai lo sciacallo oh chi non ho ammazzato oh chi non ho ammazzato vai stavo ammazzato anche sto qua che è molto più grande di me ok io devo rubare tutti sti punticelli però altrimenti non riesco a fare nulla stiamo attenti a dove andiamo io lo chiudo no no non ce la faccio mai nella vita se era un po' più compatto all'inizio forse ce la facevo nooo state un po' di merda boia dee dee boia 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 dee dee boia dee dee boia oddio qua ce lo riscate un po' e bisogna sempre stare attenti queste partite anche perchè il primo ha 18.000 punti e si chiama youtube quindi sarà uno che fa video su youtube non so che cosa mi spinge a dire ciò ma ha un certo sesto senso per quanto riguarda queste cose una volta le cazzate però io devo stare attento a questi amichetti qui america vero? america america ma guarda com'è morta l'america se questo è un gioco per squadra bisogna stare attentissimi quando andate in giro potreste morire da un secondo all'altro non va bene questa cosa chi sei tu? petridish.tv ma che ti conosce? eh ho quasi rischiato da ammazzarti anche perché sarebbe stata una figata assurda invece no paraci 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 muoiono tutti più o meno nooo per un millisecondo e lo ammazzavo io sto in fame millisecondo devo usare la mia frusta di più perchè non fa da una mia frusta la tiro in testa agli altri finchè non muoiono avrebbe anche leggermente senso no? cioè più o meno penso ma che cosa? si sono ammazzati a vicenda va bene io sono contento io prendo i punti sono contentissimo io oh altri punti grande così oh guarda come muoiono tutti questi punti arcobaleno per zio surri grande grande zio please clap ok guarda ora prendo tutti i punti poi ti batto le mani perchè comunque sei un grande bravo zio che mi fai prendere i punti gratis bravo bravo sono a 2000 punti ora guardate un po' quanti maialonzi ci sono in questa zona se uno di questi muore sono punti gratis praticamente e anche se qualcuno non muore perchè giusto con i punti che mi lasciano nelle scie sono un fottutone di punti ah guardalo come muore guardalo vardas vardes spagnolo non lo so mi sto esercitando un po' anche se ibiza parlano tutti comunque italiano puntiiii grande così mica guarda come ti chiudo grande surri kill dell'anno kill del secolo ruba i punti ok ok rubati bene tutti i punti fai il bravo pampino grande surri fai il bravo pampino orca grazie zio mi hai salvato dalla morte sicura sono a 8000 punti tra mille punti raga sono in classifica tra mille punti tra mille punti vaffanculo sti mille punti mi li piglio subito ok non ce la faccio a prendere subito mi sa oddio 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 che curvone ho rischiato allora sono 8600 punti mi manca davvero pochissimo per arrivare in classifica direi che sarebbe un buon inizio arrivare in classifica eh che dite io dico che ci sta grande zio grande che muori come piace a me grandi che morite tutti grandi grandi guarda che faccio un bello sprint mi rubo tutti sti puntozzi torno indietro e li prendo anche tutti gli altri bravo zio bravo guarda lì ci sono tantissimi altri punti pronti da essere presi sono a 12500 e sono quarto in classifica ragazzi quarto in classifica anche se il primo è a 35000 porca puttana vabbè ma la mia frustozza dovrebbe fare il suo lavoro adeguatamente alla situazione guarda i punti guarda i punti prova a fare un po' oddio ho rischiato tantissimo ma è con il rischio che si fa il guadagno che non risica non rosica ok grande surri grande surri oh zio cosa volevi fare per favore sono a 15000 punti e sono ancora quarto in classifica non ci credo barca puttana 15600 e sono comunque quarto perchè il terzo ha indovinate un po' 27000 punti non ce ne avrò mai o muore qualcuno io rimarò fermo qui per sempre che bello vero che bello ci sono anche i verbi infami che si mettono neri per non farsi vedere quanto stronzo puoi essere nella vita mamma mia quanto 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 stronzo oh mio dio quanti punti ci sono qua però eh nooo 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 no maria io esco no maria io esco non è possibile avevo calcolato bene quella curva pensavo di riuscirci pensavo ghigi go go ghigí gu 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 أن you're the champions to do du 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 ЧEMbi gegangen Boodie grande surry la rimonta siamo a 500 punti la sta da per arrivare in classifica e questo c'è a 60.000 ora è cambiato lo server porca puttana ciao CEO ciao volevo ammazzare il super fermentone ma... fermentone cosa sto dicendo? vermo non mermone... cosa parlare? oddio quanti punti ci sono qua what the fuck bro? che cazzo? no sta laggando penso che ci sono così tanti punti ok raga penso che questo server abbia qualche problema cioè guardate cosa sta succedendo? no zio no e moriamo vai ok almeno qui riesco a muovermi sai com'è? ci sta pure Tupac porca puttana l'odio totale per serghei serghei rosso di merda oddio guarda questo sta cercando di chiuderlo ma non ce la fa non ce la fa ti prego muori no no volevo che tu morissi oddio oddio ce la faccio l'ho ammazzato l'ho ammazzato non osai prendere i miei punti eh l'ho ammazzato io cioè ti ho pure liberato ok questo cioè mi sei debitore per la vita ho detto che mi sei debitore per la vita infame sono vaca di merda che qua va va la va la nooo ciao zio guarda come ti ruba i punti guarda come ti ruba i punti ti odio voglio la mamma non mi fanno giocare voglio giocare anch'io voglio arrivare in classifica eh ma allora c'hai scassato il cazzo zio guarda ci guarda ci guarda ci guarda ci guarda ci è tipo il mio urlo di battaglia per questo video punti non so perché ma punti mi piacciono i punti se uno si trova i punti così cosa fai non li prendi ma educazione raga ma educazione questo è un bot c'è scritto l'ha detto lui che è un bot no impossibile che è un bot è scassato il cazzo 1970 Alan ehi Alan 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 è morto non ce l'ho fare scorda 85 davvero porca vaca che vergogna che sto giocando di merda ho fatto una run carina ma poi mi sono fermato così al quarto posto in classifica non funziona così zio sorri non funziona così e tu qui cazzo sei l'occhio della verità è galit oh c'era anche maury jay ma perchè basta ho deciso chiamiamoci sorri jay ci sono troppi nickname jay in questo mondo quindi mi chiamerò anche io sorri jay ah guarda sono già 600 punti è così che funziona la vita oh ci sta anche un bomber ma sto bomber è un po' scemo cioè ha evitato in pieno un bot di punti bomber mi sa che è un bot raga mi sa che è tantissimo un bot ah 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 questo vuole chiudermi eh che non lo so super puntoni boom bitch boom no 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 maria io esco maria vaffanculo maria ok mi sono sfogato nooo allora sto sul rigenio mi sta portando così tanta fortuna a dire il vero ciao jumbo cazzo se ammazza uno così grande era del colmo non posso neanche correre quanto mi fai schifo ciao zio muori prego muori dammi i tuoi punti ti prego ho bisogno di punti di qualcuno datemi i vostri punti ho bisogno di punti mamma mia che punto mi sono ridotto di questi altri punti passa qui dentro grande surry abbiamo anche chiuso quest'altro abbiamo anche chiuso quest'altro ah volevi tu sopravvivere all'ira di surry jay vero? vero che volevi? si e invece rispetta la morte più totale perchè se pensi di sopravvivere oddio questo vuole chiudermi questo vuole chiudermi ti sbagli di grosso pezzo di merda mi siete tutti sul cazzo vi odio tutti quanti vi odio affanculo merda io lo faccio affanculo io lo faccio merda non ho paura di voi ah io ho mischiato merda pensavo pensavo fosse un minimo più fi ma ragazzi per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione non lasciare mi piace se hai piaciuto questo video iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale insieme a quello che avete fatto su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate io vi saluto ciao turututututti